Ciao, presentati pure di cosa ti occupi. Ciao, io sono Tiziano Bennici, sono un consulente, un venditore. Ok, come mai hai deciso di essere qui a Marketing Automatico Live? Ho scelto di seguire Hermes il corso live perché avevo grosse difficoltà nell'impostare un sistema di vendita e quindi avevo bisogno di qualcuno che mi spiegasse, mi desse dei consigli step by step da poter applicare ogni giorno per poter aumentare le mie vendite. E in Hermes e nel suo sistema ho trovato proprio questa soluzione. Quindi quando tornerai a casa dopo il corso riuscirai ad applicare il sistema, cioè un sistema passo passo che ti guida? Sì, riuscirò veramente da domani a iniziare a lavorare, a fare i miei primi passi e quindi a iniziare subito a vedere i risultati. E questo solo grazie a Hermes e ai suoi consigli e a ciò che è all'interno del sistema stesso. Quali tipi di risultati ti attendi? Buoni, le aspettative sono alte per un semplice fatto. Già con i materiali gratuiti che avevo preso nei mesi scorsi dal blog di Hermes già avevo ottenuto fino al 30-35% di risultati in più. Quindi immagino se già con i materiali gratuiti avevo raggiunto quei risultati, con il live sono alte le aspettative, ma presumo che non mi deluderà. Ecco. Com'è stato Hermes dal vivo? Disponibile, bravo, chiarissimo che è una cosa fondamentale e quindi veramente lo consiglio vivamente a tutti. Grazie mille, ciao! Grazie a voi, ciao! Grazie a tutti!